Assolutamente sì, abbiamo fatto una grandissima partita con il Cittadella, ora questa vittoria ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, andiamo a Ferrara per continuare così su questa strada perché altrimenti non abbiamo fatto niente, quindi io mi auguro di fare una grandissima prestazione come quella contro il Cittadella. Io ogni allenamento do il massimo, poi il mister sarà a decidere se farmi giocare oppure no, io quello che posso fare è dare il 100%, poi deciderà il mister. Il mister magari ora stiamo facendo un modulo nuovo che magari io non ho mai fatto, quindi cerco sempre di fare quello che mi dice il mister, poi a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però io penso che non è vero, penso che il mio atteggiamento è sempre ottimo, penso che ogni allenamento dirò sempre il massimo, poi magari deciderà il mister se farmi giocare oppure no, io cercherò sempre di dare il massimo fino a quando starò qua, poi sarà lui a decidere. Tutto risolto col mister? Assolutamente sì, nessun problema con il mister. Ritrovi Pasquale Marino, che ricordi hai di lui? Il mister è una grandissima persona e un grandissimo allenatore, sono stato benissimo con lui a Vicenza, ora me lo ritrovo come avversario, spero di fargli un dispetto, dai. Nei tuoi precedenti con la SPAL purtroppo non hai mai vinto doppia voglia di riparsa allora? Assolutamente sì, ho fatto un gol lì a Ferrara quando giocavo nel Bari e ora se gioco spero di rifarmi anche questa volta. Ma assolutamente, assolutamente, noi siamo una squadra che purtroppo all'inizio abbiamo avuto dei problemi perché come ho detto prima, tre infortuni, moduli nuovi che comunque dobbiamo ancora capire. Ora spero che questa vittoria qua ci dà un grandissimo morale. Come ho detto prima, andiamo a Ferrara per farci, per iniziare, anzi, già spero che la partita con Cittadella possa darci una spinta in più e scalare questa classifica perché non siamo da quel posto in classifica, ecco perché comunque la squadra è un'ottima squadra, ripeto, ora senza punte comunque era difficile, ora abbiamo Asensio, se è terra, mi dispiace che sia infortunato, ora c'è Asensio che ci può dare una grossa mano, quindi speriamo di fare un grande campionato da ora in poi. Oggi è l'anniversario dei Pescara Rangers, un commento sulla tifoseria organizzata a Biancazzurra e quanto manca l'apporto dei tifosi? La gente comunque ci sta sempre vicino, anche ultimamente comunque che i risultati non arrivavano, ci è stata vicina, non ci ha mai contestato, quindi noi dobbiamo soltanto dimostrare sul campo e regalargli delle soddisfazioni perché è una piazza che lo merita, non lo dico perché, ma lo sento, è una piazza che merita e quindi dobbiamo dare tutto per questa piazza. Beh, assolutamente tanto, lo ammetto, lo ammetto, però come ho detto prima è normale, ho avuto delle difficoltà a livello magari tattico, però spero di sbloccarmi più presto possibile e di iniziare a regalare soddisfazioni a questa gente, a questa piazza, a questa società.